La prima sarà quella di Napoli Popolare, la seconda quella di Forza Italia, la terza è il PD Partito Democratico, la quarta è il Movimento 5 Stelle, la quinta a Noi Sud, la sesta con De Magistris che racchiude Verdi, la città, Dema in Comune a Sinistra e Riformisti Democratici. E' questo l'esito del sorteggio relativo al numero d'ordine in base al quale i contrastegni delle liste nominativi dei candidati al Consiglio Metropolitano di Napoli saranno riportate sulle schede elettorali, effettuato questa mattina dall'ufficio elettorale appositamente costituito presso la città metropolitana, cui hanno assistito anche i rappresentanti delle forze politiche. Le liste nel loro ordine, complete dei nomi dei candidati, sono ora pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente. Le elezioni si svolgeranno domenica 9 ottobre dalle ore 8 alle ore 20 presso la sede di Piazza Matteotti a Napoli, sono chiamati a votare i sindaci e consiglieri dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana per un totale di 1.536 eventi diritto che dovranno eleggere 24 membri del Consiglio Metropolitano. Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 8 di lunedì 10 ottobre e alla programmazione dei risultati provvederà l'ufficio elettorale il giorno stesso delle operazioni di scrutinio oppure, dove necessario, il giorno successivo.